Io sono Michele Orselli, lavoro per Ideato, una ditta di Cesena dove sviluppiamo applicazioni non solo ma principalmente con PHP e in questi 20 minuti voglio parlare di come fare il deploy di un'applicazione PHP su Google App Engine. Quello che volevo fare era creare un'applicazione che fosse proprio la sua Hello World e fare una cosa tipo Kitchen Sink, quindi un'applicazione in cina piccola ma che dentro potesse avere un po' di cose, un po' di esempi per potervi far vedere come in effetti è stata fatta l'integrazione di PHP su Google App Engine. Ho pensato quindi che il mondo avesse assolutamente bisogno di un'altra applicazione to do perché quelle fatte fino ad ora non mi soddisfacevano totalmente. Parentesi, quanti di voi usano PHP? Pensavo di meno, bene. Ok, tutto il codice è disponibile a quell'account GitHub, è liberamente applicabile anche adesso se volete. Perfetto, quindi io sono partito da un'applicazione to do che non fa nient'altro, dopo ve la farò vedere che accettare un file, una descrizione e caricare tutto e fare la lista dei to do che ho inserito fino ad ora. Quindi è una cosa veramente interessante e vedremo quali sono gli step necessari per riuscire a farla girare su Google App Engine. Prima, rapidissima introduzione su qual è stata, quali sono le caratteristiche principali di PHP su Google App Engine. Innanzitutto la versione di PHP disponibile è 5.4, recentemente è uscita anche la 5.5, tra non molto uscirà la 5.6, però 5.4, se considerate che la maggior parte delle applicazioni girano su 5.3 e alcune su 5.2, tant'è. In più, l'environment di PHP gira in una sandbox. Questo cosa significa? Che ha alcune caratteristiche e alcune limitazioni. Quali in particolare? Alcune estensioni non sono disponibili, in particolare Curl, che credo alla fine sia un'estensione che più o meno tutti si aspettano di avere in un'installazione di PHP standard. I magic per lavorare con image magic, quindi ridimensionamento e elaborazione dell'immagine e altre, qui ne ho citata una, ad esempio quella per controllare i processi, quindi creare processi, fare fork, eccetera. Scusami, dimmi. Non c'è image magic ma le GD? Le GD ci sono, le GD ci sono, sì sì sì, grazie per la domanda. Alcune funzioni sono disabilitate, alcune in modo permanente, ne ho citate alcune, exec, non potete eseguire processi, lanciare voi comandi dall'interno di PHP, funzioni che lavorano con i file in generale, che creano file temporanei, eccetera, dopo vedremo perché. Alcune sono parzialmente disabilitate, tipo il modificatore slash su preg replace, e altre sono disabilitate in maniera soft, quindi vuol dire che possono essere riabilitate manualmente, anche qui vedremo dopo come è possibile farlo. Quella è la particolarità, il file system è read only, è per questo che non è possibile andare a fare, eseguire funzioni che lavorano con file temporanei, eccetera. Quindi il vostro codice viene deployato su un file system che è in sola lettura, quindi se avete applicazioni che fanno caching su file system o che si aspettano di avere un file system scrivebile sotto, può essere problematico, o meglio dovete ripensarlo in modo che funzioni in maniera diversa. I file possono essere storati su Google Cloud Storage, dopo vi farò vedere come. Altra particolarità, non è possibile chiamare direttamente i servizi esterni, ecco perché curl è disabilitato, bisogna usare un servizio di Google che si chiama UrFetch Service, e anche qui dopo vi farò vedere come è possibile implementarlo, in realtà qui l'integrazione è abbastanza trasparente. Altre caratteristiche, come diceva prima Alfredo, le risposte devono essere generate entro un certo tempo, 60 secondi, per questione di scalabilità e efficienza, e la dimensione delle risposte generate dinamicamente deve essere i 32 miglia. tra te. Dimmi. Allora, il primo esperimento che abbiamo fatto, grazie per la domanda, ti meriti una borraccetta, il primo esperimento che abbiamo fatto quando ci hanno dato accesso a Google App Engine è stato installare Symfony. Tristemente abbiamo scoperto che purtroppo Symfony dipende a livello proprio core all'interno del kernel e le altre librerie, dipende strettamente dal fatto di avere un file system scrivibile. Quindi ad oggi ti posso dire che non è possibile installare Symfony. È possibile installare Silex, che è il parente, il figlio piccolo di Symfony, diciamo così. Sì? Sì, qui ho fatto un esempio con Twig, che anche qui è una libreria di templating PHP, parente, vagamente, Smarty. In Twig ad esempio è possibile disabilitare il caching, quindi è possibile dire che non vado a scrivere su file system. Non so in Smarty, sinceramente... In quel caso però potresti pre-generarlo, prima di deployarlo. Sì, non si possono chiamare un'operazione, significa che tutti i file wrap per una HTTP... Dopo... in realtà l'integrazione è stata fatta in quel modulo lì, praticamente... te lo faccio vedere dopo. Altre cose, le sessioni inattivamente sono salvate su ManCache e... quindi praticamente tutte le funzioni di basso livello per lavorare con le sessioni, session start, session ID, eccetera, funzionano come vi aspettereste. L'array che contiene tutti i dati in sessione, dollar underscore session, anche questo funziona in maniera tranquilla, senza dover far nulla. Se usate un framework potreste aver bisogno di cambiare l'handler che il framework setta e dirgli di usare in effetti ManCache. Altra particolarità, i log sono gestiti via syslog. Anche qui inattivamente PHP ha una funzione per scrivere i log su syslog. Anche qui, a seconda o meno della vostra applicazione, che la vostra applicazione faccia caching su file, dovete ripensare e cambiare questo comportamento. perché come dicevamo prima, il file system non è scrivibile. Fine. Queste erano molto velocemente le particolarità. Vi consiglio di leggere comunque la documentazione che è molto esaustiva, molto completa. Qui ho cercato di fare veramente un riassunto delle cose che almeno nella mia esperienza mi sono trovato ad affrontare. Altro step, come preliminare per poter deployare l'applicazione, installare l'SDK, lì c'è il link. I requisiti. Bisogna aver installato Python sulla macchina, perché la maggior parte dei tool che fornisce è Python. E bisogna aver installato il modulo PHP-CGI. Questo perché, come vi farò vedere dopo, esiste un web server dove fare i test e ha bisogno del modulo PHP-CGI. Ok, scaricate tutto, mettetelo dove volete e ricordatevi di aggiungere questa URL all'include path, in modo che poi PHP riesca ad andare a pescare le classi fornite dall'SDK quando le dovete usare. altro step successivo, in maniera simile a quello che aveva spiegato Alex prima, per deployare un'applicazione dovete creare un file API-AML nella root del progetto. Riuscite a vedere? Penso di sì. Ok. Che cosa dovete scrivere? Primo setting, il nome del progetto, questo era autogenerato, l'ho tenuto così. La versione, come spiegava Alfredo prima, è possibile definire più versioni che vengono deployate su App Engine. Runtime PHP, basta, nient'altro. Sempre nello stesso file dovete dire in che modo volete gestire gli URL della vostra applicazione. Nel mio caso, nel caso di questa applicazione, ho definito alcuni handler, in particolare ho detto che gli URL che iniziano da CSS sono mappati nella directory, ve la farò vedere meglio dopo, web CSS. I JavaScript in maniera analoga sono mappati in web JS. Tutto il resto viene buttato in index, che è fondamentalmente il front controller, ok? Quindi il file PHP a cui tutte le richieste arrivano e poi lui internamente fa il dispaccio verso l'azione giusta. Come ho detto prima, ci sono alcune funzioni che sono utilizzate in maniera soft e potete riabilitarle in questo modo qui. Definite un file PHP in sempre nella ruta del vostro progetto e qui potete, tramite questa direttiva, a decidere quali funzioni riabilitare. Bene. Come vi spiegava Alfredo prima, è possibile testare il vostro codice in locale e vedere se in effetti funziona senza dover deployare il suo App Engine prima? In questo modo potete ripartire il server di sviluppo e dovete passargli l'esugibile PHP CGI, che è quello che in effetti si occuperà di smazzarsi nel codice PHP, e la directory che contiene il vostro progetto. E potete, volendo, specificare anche un host. Quindi potete far partire il server, fare le vostre prove, una volta che avete fatto tutto e volete fare l'upload della vostra applicazione su App Engine, avete questo comando, update directory che contiene il vostro progetto. Vi chiederà la prima volta username e password, che sono quelle con cui vi siete registrati in App Engine, e poi procederà lui a fare il deploy dell'applicazione. A quel punto l'applicazione, come vi faceva vedere Alfredo prima, sarà disponibile su il nome del progetto, progettd.appspot.com. Ok, a sta fine delle slide, vi volevo far vedere adesso un pochino di codice. Allora, prima partiamo dall'applicazione. Questa è la mia meravigliosa applicazione ToDo, quindi posso dire che devo fare la spesa, alleggo la lista della spesa, permetto, perfetto, ha aggiunto una riga. Questo è il file che viene linkato e posso scaricarlo. Da qui posso decidere di cancellare quell'entry. Fantastico. Veramente innovativo. Perché ridete? Scusate, no, non è... Vabbè. Ok, vi faccio vedere un po' di codice. Questo è l'APML che vi ho detto prima. Vedete, è abbastanza grande il carattere. Lo prenderò come un sì. Ok. quello che vedete. Ho aggiunto una direttiva per schippare alcuni file, in particolare i log che in locale vengono salvati sulla macchina locale. Una volta le polliati vengono salvati su syslog. In realtà non c'è molto altro. Sì, questi qui accettano, questo parametro qui accettano. Sì, sì, sì. Diciamo che ad oggi la maggior parte delle applicazioni non legacy. Usano tutti i paradigmi del front controller. Quindi in realtà tu hai un file PHP solo che si smazza tutte le richieste poi internamente. Però volendo puoi farlo. Volendo puoi farlo. Sì, sì, certo. Vi faccio vedere il codice. Non c'è niente di veramente formidabile. Non so quanti di voi conoscono Silex. Tantissimi. Perfetto. Va bene. Silex è un microframework che fondamentalmente vi dà la possibilità di definire in maniera abbastanza semplice delle rotte e le operazioni che è possibile fare su quelle rotte. Ad esempio, qui sto dicendo che quando faccio una post all'opera slash new eseguo questa funzione qui. ok, abbastanza semplice, non è rocket science. Qui ho definito qui le rotte, la home che non fa i repository, che per scarsi i to-do, la new che crea un nuovo to-do, delete, delete all e download. Allora, la prima cosa, i log. Vi dicevo, normalmente i log sarebbero salvati su file. Ok? Quindi default verrebbero salvati su file. Devo usare syslog. In questo caso ho definito due file di configurazione, uno locale, che specifica come si comporta l'applicazione in locale e uno prod e che viene controllato da questa variabile. Ci sono altri mille modi, questo sicuramente non è il migliore ma era il più veloce, quindi ho fatto così. Praticamente quando sono in locale cosa sto dicendo? Beh, innanzitutto che i file vengono caricati su file system, che l'urla dove voglio uploadare i file, della forma che mi permetterà di uploadare i file è slash new e che i file verranno caricati nella directory web uploads. Tutto qui, fine. Quindi diciamo che il locale si comporta come normalmente, mi aspetto. Il remoto cosa succede invece? Beh, posso usare, come vi dicevo, Google Cloud Storage. Google Cloud Storage vi dà la possibilità di definire dei bucket, quindi dei contenitori dove potete andare a mettere dentro i vostri file e in che modo è possibile accedere. Come spiegava prima Alfredo, usando l'SDK, voi potete andare a dire creami un URL per l'upload dei miei file. E viene salvato in questo parametro qui. Quel parametro poi verrà usato per popolare il campo action della forma. Una volta che l'upload del file è concluso, è determinato, viene fatta una post all'urla, che specificate. Quindi gli sto dicendo, creami un URL per caricare il file e poi quando hai finito fai una post con il contenuto, con il file e i dati, altri dati eventuali nella post a slash new. Ok? Che funziona in due passaggi. Io faccio la, cioè la forma fa la submit all'url creato tramite questa libreria e poi la libreria fa una post alla new. Quindi se avete notato qui non ho dovuto cambiare nulla, cioè io qui sto comunque dicendo, mi aspetto che dei dati in post all'url slash new mi permettano di creare un nuovo to do. Anche qui i file, le operazioni sul file funzionano in maniera trasparente, non devo dire niente, grazie al fatto che viene implementato, l'integrazione con Cloud Storage viene implementato come uno stream wrapper. E infatti se andiamo a vedere qui, io sto dicendo carica su gs che è Google Storage e il nome del mio bucket. Quindi fondamentalmente a livello di codice non devo cambiare nulla, grazie a questa integrazione fatta a livello di stream wrapper. La stessa integrazione, in maniera simile, funziona per le richieste a servizi esterni. Non so se l'avete notato, in maniera certamente visibile al massimo. Qui mostro l'orario. Questo orario qui non l'ho creato io, ma viene caricato richiamando un servizio esterno, cioè in realtà non proprio un servizio esterno, richiamando un sito facendo scraping brutale, però tant'è, funzionava. Ho cercato un servizio rest per avere l'ora, sembra la cosa più difficile del mondo. Come funziona il codice? Vi faccio vedere anche qui. Curl è disabilitato, ma le funzioni che lavorano con i file accettano, lavorano anche con gli stream. In particolare è possibile creare un contesto in questo modo, dicendo quello che vuoi fare in realtà è una richiesta HTTP, il metodo è GET, e qui potrei passare anche altri parametri aggiuntivi come degli header HTTP. Con stream.context.create andiamo a creare fisicamente l'oggetto contesto, poi lo passiamo a file.get.contents, che quindi di base sta simulando quello che farebbe Curl, sta facendo una richiesta HTTP.get con quei parametri che noi gli abbiamo passato. Quindi il contesto è obbligatorio? In realtà secondo me, in questo specifico caso, io sto facendo una GET, quindi potrei ometterlo. Mentre se devi fare una POST ti serve. Ok, quindi questo è come funziona l'integrazione con i servizi esterni. Tutte le funzioni che lavorano sui file accettano il stream.br e potete lavorare in questo modo. Allo stesso modo, tutte le funzioni che lavorano con i file vi permettono di andare a leggere file storati su Google Cloud Storage, perché anche quello vi dà uno stream. Ok. Ultimo passissimo, come lavorare con i database. Vi faccio vedere la classe, anche questa è veramente interessante, che implementa un repository una classe per andarsi a pescare oggetti di un certo tipo. Qui non faccio altro che pescare un oggetto PDO e poi fare delle query secche e farmi restituire degli oggetti. L'iscio anche questo è il codice PHP normale, tra virgolette. Come avviene l'integrazione? Beh, in caso di ambiente di dev, quindi ambiente locale, io creo una normale connessione con il DB locale mio. Ok, specifico il nome del DB, username, password, nient'altro. Su App Engine invece, la parte che ci interessa è questa. Voi create un database su Google e il parametro di connessione è questo, tramite UnixSocket, questa stringa qui, dove questo, l'ultimo pezzo, è il nome del database. In realtà è il nome progetto, due punti, il nome del database. Per il resto non è meno. Il database è questo, username, root, senza password, potreste creare anche altri utenti. La stringa di connessione quindi è questa di PDO. Fine. Tutto il resto funziona in maniera trasparente.